Salve a tutti ragazzi, qui Francesco Guarino e siamo prontissimi per lanciarci sul tiraggio della settimana che è come posso assecondare i nuovi inizi, un quesito suggerito dal paggio di denari di ieri che a tutti gli effetti non rappresenta i nuovi inizi, o meglio non rappresenta sempre i nuovi inizi, a volte potrebbe farlo, ma come lo abbiamo inteso e meditato per questi giorni? Sì, e visto che la domanda è particolare perché quando si tratta di inizi, che siano amicizie, amori e lavori, siamo sempre ansiosi e curiosi, allora eccoci serviti il quesito e il tiraggio. Oh, mi raccomando, metti like a questo video e condividere, così riusciamo a raggiungere con i tarocchi quanta più gente possibile. Ebbene, andiamo adesso a vedere le carte estratte. La prima è l'otto di spade. Allora, questa carta, questo arcano, rappresenta spesso la sensazione di essere bloccati, limitati, da quelle che possono essere paure oppure insicurezze. Se ti senti intrappolato, come se ci fosse qualcosa che ti impedisca di andare avanti, fermati un attimo e capisci che queste limitazioni sono spesso autoimposte. Credo che la chiave sia riconoscere che hai il potere di liberarti. Devi cambiare mentalità e allora è opportuno, invece di vedere le prigionie e gli ostacoli, cercare di capire quali sono le opportunità e qual è il miglior modo per crescere e per andare oltre i propri limiti. Ma poi alla fine ogni persona che ha raggiunto il suo traguardo ha dovuto affrontare le proprie paure e le ha dovute superare. Quindi la grande lezione dietro questo arcano è liberati dalle paure. Identifica cosa ti sta trattenendo e prendilo di petto. Affrontalo direttamente. La seconda carta estratta è il 4 di bastoni. Wow, carta fantastica, soprattutto l'8 di spade, perché apporta un certo grado di celebrazione, stabilità e armonia e può significare che una volta che hai superato le tue paure troverai quell'equilibrio e potrai celebrare il successo. Forse inizi a costruire delle solide fondamenta per il futuro. Forse devi pensare a questo arcano come la costruzione di qualcosa, di un'impresa, di un'idea. Devi avere una base solida sulla quale crescere. Quindi lavora sulle tue relazioni, sui tuoi progetti. Crea un ambiente che sia in grado di supportare il tuo successo e non dimenticarti, nella parte più ludica ovviamente del 4 di bastoni, di festeggiare i piccoli successi lungo il tuo percorso, perché ogni passo avanti è un traguardo e questo ci porta a mantenere sempre un atteggiamento positivo e ottimista, oltre a rimanere motivati. Infine abbiamo il 9 di spade. Insomma, questo 4 di bastoni è un po' circondato dalle spade. Lo stesso 9 di spade, che a volte rimanda all'ansia e alla preoccupazione, sembra un po' smorsare l'energia positiva e gioiosa del 4 di bastoni. Però ascolta, le preoccupazioni del 9 di spade derivano dall'anticipazione di problemi, mentalmente parlando, che però potrebbero non verificarsi mai. Vedo questo 9 di spade che fa eco all'8 di spade, ovvero è la tua mente che gioca brutti scherzi. Quindi come puoi usarla a tuo favore? Impara a gestire lo stress, meditazione, esercizio fisico, una buona routine quotidiana, un buon ciclo sonno-veglia. Tutte queste sono cose fondamentali, perché non devi lasciare che le preoccupazioni ti paralizzino. Devi usare l'energia per prepararti al meglio, devi pianificare al massimo, ma senza ossessionarti da quella pianificazione. Forse è necessario fare un passo alla volta. Ricorda che le paure spesso svaniscono quando le affronti direttamente. È anche interessante vedere questa progressione numerica, che qui gioca un ruolo piuttosto importante, dato che abbiamo estratto esclusivamente le numerali degli arcani minori, nella quale abbiamo un passaggio dall'8 di spade al 9 di spade. Quindi comunque esiste una progressione. E questa avviene per mezzo del 4 di bastoni, che è una sorta di ponte che ci permette di passare da quella prigionia di cui abbiamo parlato nell'8 di spade, a questo senso di pianificazione senza troppa sovraintellettualizzazione del 9 di spade. Allora forse è arrivato il momento di pianificare, di lanciarci all'interno di una strategia, ma con gioia, con felicità e con stabilità. Ricapitoliamo. Liberati dalle tue paure, costruisci delle fondamenta molto solide e gestisci le preoccupazioni. Questi possono essere i tre passi chiave per assecondare i nuovi inizi. Spero che questo video sia stato utile. Se ti è piaciuto, rinnovo l'invito a lasciare un like, a condividerlo e ad iscriverti al canale per altri contenuti come questo. Ricorda, il potere di trasformare la tua vita è nelle tue mani. Quindi questa settimana voglio che anche tu fai un tiraggio del genere. Puoi farlo con il tuo mazzo di carte, con i tuoi significati. Ho messo a tua disposizione un generatore di tiraggi gratuito in cui ti comparirà immediatamente il significato delle carte. Insomma, i modi per personalizzare tutto questo ci sono. Ti prego, fallo. Perché questo è un abito per il collettivo, è un'energia per il collettivo. È ovvio che tu hai bisogno della tua. Rinnovo un saluto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!